L'UO Lei è studente? Io no, no, smesso, smesso. E di che cosa si occupa? Di niente al momento. Ma che ci facevi a villasciare con quel vecchio? Lo porto a spasso, mi danno 30 euro al l'ore. Ma almeno pagherai buffi. La raggi? E come ti arrangi? Spacci? Non riesci più a distinguere da cosa va bene da cosa va male, perché è l'Alzheimer, fa così. Ma che si attacca? Mai sentito. Mai sentito? E' un po' da molto importante. Metto il sacco dei premi, ho scritto il sacco dei libri. Ho come un déjà vu. Ma che se sente male? Dio? No. Guarda, le è sempre mancata molto la compagnia maschile. La sola è solo davanti al portiere in gold! Ah, abbiamo mancato! Tutto a posto? Le sono obbligato. No, no, capito. Grazie. Ah, ecco me. Lei non ha mai scritto poesie? No, io non... Si scrive quando non si sta a domandare l'amore. Se ti portano il gabio, te ce lascio. Allora, dai! Io ci ho pensato. Voglio tornare lassù. Ma lassù dov'è? Ma dobbiamo fare in fretta. Non c'è più tempo. Ma non capisco perché non me ne hai parlato. Tutto quello che vuoi, e fu quello il saluto. Tutto quello che voglio, alla fine, l'ho avuto. Giorgio, scusa. E' vero che Alessandro ti sta simpatico? Chi è Alessandro? No, ma fai, lo vedi. Come off. Ioercas She ottermi. Mauro quella miaнова? C'è uscielen tácora?